Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ho preparato una sequenza di esercizi che cercheranno di lavorare sulla cervicale quando trovi che in questa zona si siano accumulate le tensioni, quando senti dei blocchi nel movimento. Il nostro lavoro si articolerà in due parti, quindi cercheremo di mobilizzare, mobilizzare la zona delle spalle, del collo in modo delicato, quindi cerca sempre di evitare, di forzare, ma raggiungi il tuo range di movimento possibile in questo momento. E cercheremo invece di fortificare la muscolatura, in particolare dorsale, nella parte tra le scapole che avvolge la cassa toracica, una muscolatura in parte posturale che ci permette veramente di migliorare la nostra sensazione di allungo, di migliorare il posizionamento della testa rispetto al busto e di alleviare i carichi, in particolare dal trapezzo superiore che è quel muscolo che parte dalle spalle e poi sale verso il collo. Potrebbe essere utile, se hai a disposizione una palla, sgonfiarla leggermente per l'ultima parte del nostro allenamento. Faremo una piccola parte di veramente massaggio, automassaggio utilizzando questa palla. Se non hai una palla puoi tranquillamente utilizzare un cuscino, non troppo morbido. E direi che possiamo partire. Voglio solo ricordarti prima di iniziare che nella descrizione di questo video trovi il link a Nuvola Pilates, la mia scuola online dove trovi video di Pilates tradizionale, di fusione con la danza e con lo yoga. Puoi fare una settimana gratuita di prova senza impegno, puoi vedere tutti i contenuti e poi decidere se iscriverti all'abbonamento mensile. Io ti aspetto su Nuvola e intanto pronti per allenarci insieme. Cominciamo dalla posizione seduta, quindi qui è importante che tu abbia gli schiappoggiati, la colonna dritta in allungo, quindi la posizione a gambe incrociate non per tutti è la posizione più comoda, quindi puoi stare in ginocchio, puoi recuperare una sedia, puoi mettere uno spessore sotto al bacino come un tappetino arrotolato o un cuscino non troppo morbido e abbastanza spesso che ti permetta veramente di non sentire fastidio nella zona anche delle ginocchia e delle caviglie mentre ci concentriamo bene sulla zona alta del corpo. Quindi prenditi il tempo per allungare la tua colonna, gli schi sono quegli spuntoni verticali che sentiamo sul bacino, quindi ci allunghiamo un secondo e cominciamo a immaginare di avere un muro dietro la schiena e di toccare quel muro con la zona della nuca. Quindi puoi usare una mano e spingere in modo molto delicato sulla tua mano proprio per arretrare leggermente con il mento e cominciare ad attivare quella muscolatura attorno alla colonna vertebrale. Detto questo andiamo a ruotare indietro le spalle delicatamente, cerca di non andare al massimo del tuo range, stiamo veramente mobilizzando e quando si hanno delle fastidie alla cervicale spesso ci sono dei blocchi, dei nodi, è come se incontrassimo dei nodi anche in questa parte delle spalle. Le tue mani possono scivolare sulle tue ginocchia, sulle tue gambe liberamente, respira naturalmente, ne facciamo ancora due andando indietro e poi invertiamo la direzione del cerchio, facciamo qualcuno anche avanti e respira sempre liberamente, mantieni quella lungo dal centro della testa, ne facciamo ancora quattro, ancora tre, ancora gli ultimi due, ancora uno, quindi ritrova quella lungo dal centro della tua testa. Ora mantenendo quella piccola spinta indietro del mento andiamo a ruotare la testa verso destra e verso sinistra e veramente in questo movimento non forzare in nessun modo la rotazione, può essere che tu riscontri una differenza tra la destra e la sinistra, semplicemente accetta che ci possa essere una differenza in generale. Cerca di tenere le spalle lontane dalle tue orecchie e vedi se scaldando la parte della colonna cervicale è possibile aumentare leggermente il range di questo movimento, ma ripeto non forzarlo e respira, se la testa dovesse girare fermati e respira un paio di volte al centro, facciamone ancora due, destra e sinistra e chiudiamo con l'ultima sequenza, destra, sinistra e ritorna al centro. Ora incliniamo la testa come se volessimo portare l'orecchio verso la spalla, ritorna al centro e anche qui alterniamo i lati delicatamente e ritorna e anche qui stiamo veramente mobilizzando senza forzare, se questo movimento che non è possibile per la rigidità del lato cervicale semplicemente fermati per qualche secondo e di nuovo, piccola flessione verso il lato e cerca di tenere le spalle tirate verso il basso, quindi leggermente in depressione le tue scapole, ancora destra, torna al centro, sinistra, facciamo l'ultima sequenza qui, destra, ritorna, sinistra, ritorna. Ora da qui cominciamo a scendere, portiamo il mento un filo verso l'esterno e ritorniamo con la testa bene dritta, facciamo qualche sequenza di questo movimento, quindi percepisci l'allungo posteriore e ritorna bene al centro, quindi lo sguardo va verso i tuoi piedi e ritorna su, cercamo di creare una connessione addominale che ci permetta di mantenere allungata la colonna, nonostante questa piccola flessione cervicale, scendi e torna su, facciamo gli ultimi ancora, scendi e risali. Proviamo a unire un pochino i movimenti che abbiamo fatto, quindi cominciamo a guardare verso destra e da qui passiamo il mento come se volessimo scrivere un semicerchio col mento, andiamo a guardare a sinistra e facciamo sempre questo cerchio verso il basso e arriviamo a guardare da un lato diverso, scendi e risali e ancora scendi e risali. Anche qui il range in movimento può essere più o meno ampio in base alla tua sensazione e di nuovo verso sinistra e facciamo gli ultimi due, ancora sali e risali, torna al centro verso il basso, fermati un secondo qui e poi ritorna con la schiena completamente dritta, se vuoi puoi ruotare un paio di volte le tue spalle ancora in questa posizione. e qui andiamo a portare le braccia verso l'alto, cresciamo un secondo verso l'alto, le riportiamo verso l'estero, andiamo a sfiorare il tappetino e di nuovo allunga bene verso l'alto, ritorna, quindi pensa di allungare sempre dal centro della tua testa e ritorna, facciamo gli ultimi due, di nuovo allunga e scendi, facciamone ancora uno, sali. Questa volta quando le mani scendono si appoggiano sui due gomi, delle tue ginocchia e qui andremo a fare una sorta di cat and cow, di mucca gatto in cui inspiri, vai a tirare sulle tue braccia, crea la sensazione di estendere leggermente, anche solo il tratto dorsale, se possibile lo sguardo va un filo verso l'alto e poi andiamo a curvare tutta la colonna portando il bacino lievemente in retroversione, quindi inspira, tira sulle tue braccia, gonfia i gomiti, apri bene il petto e fuori l'aria curva e di nuovo inspira, allunga, comincia a sentire una retrazione delle tue scapole, fuori l'aria fletti la colonna nella curva C e di nuovo inspira, allunga e fuori l'aria curva, ancora un paio di volte se te la senti, inspira, allunga, fuori l'aria scendi, ancora uno inspira, cresci bene verso l'alto, fuori l'aria curva e da questa curva torna al neutro di tutta la tua colonna, le mani rimangono appoggiate sulle tue ginocchia e andiamo a fare una piccola flessione laterale in cui pensa di scendere con la spalla destra verso il fianco, quindi andiamo ad accorciare il lato destro, la testa scende e ritorna al centro, puoi iniziare il movimento testa, collo, spalle, quindi accorcia il lato sinistro senza spostare gli schi e ritorna al centro e di nuovo testa, collo e spalle scendi, senti l'allungo su tutto il lato sinistro in questo caso, ritorna al centro e di nuovo scendi, ritorna delicatamente, ne facciamo ancora uno per lato, quindi vai a flettere bene lateralmente, stiamo veramente mobilizzando un pochino tutta la colonna nelle varie direzioni e ancora l'ultimo verso sinistra, scendi, ritorna al centro, ogni volta che torni qui se vuoi ritrova quel movimento delle spalle, quel modo per sciogliere la colonna e qui cambiamo posizione, andiamo a portare i piedi in parallelo, afferra le tue cosce nella parte posteriore, quindi i piedi sono se possibile appoggiati, il movimento delle braccia ti permette di sentire l'appoggio degli schi, quindi di crescere verso l'alto e riprendiamo col movimento che abbiamo fatto prima gambe incrociate in cui inspiro, gonfio i gomiti, tiro leggermente verso l'alto, vado ad estendere il tratto cervicale dorsale e poi vado in flessione, scendo indietro, quindi mi allungo bene verso l'alto, cerco di sentire la retrazione delle scapole, la forza nella muscolatura dorsale e torno in curva, quindi la curva in questo caso ci serve un pochino per allungare la muscolatura che stiamo lavorando nell'estensione e di nuovo ancora un paio di volte allunga e ritorna, facciamo l'ultima estensione qui, andiamo di nuovo a cercare quella apertura nel petto, la curva porta lo sguardo verso il tuo bacino e da qui torna al neutro e ci fermiamo qui un secondo con la sensazione veramente di tirare, quindi stiamo fermi ma cerchiamo di continuare l'allungo dal centro della testa verso l'alto, quindi il filo ti tira dal centro della testa e senti che le braccia sono attive, la muscolatura intorno alla tua colonna, lungo la tua colonna vertebrale tra le scapole è attiva, fermati qui, respira un paio di volte in questa posizione di allungo, quelle braccia che veramente lavorano per mantenere attiva quella muscolatura e poi rilassa e da qui ritorniamo un secondo in una posizione che ci permetta di allungare un pochino più in avanti, intrecce le dita delle tue mani e qui andiamo a fare una curva in avanti che ci permette di curvare e di allungare un pochino il tratto dorsale, qui spingi in avanti una spalla, la mano corrispondente, l'altra mano, quindi vai a strecciare un pochino quella zona del dorso proprio attorno alla colonna vertebrale e allunga, respira liberamente lo sguardo verso il bacino per qualche secondo, ancora un paio di volte e poi torna con la schiena dritta, allunga, srotola bene verso l'alto, scarica le tue spalle, riapri le tue braccia e ruota di nuovo le tue spalle, molto bene e da qui passiamo in posizione supina, puoi mettere uno spessore, ti consiglio di non mettere la palla ma uno spessore che sia un pochino più stabile quindi un libro, un cuscino non troppo spesso, non troppo morbido, troviamo il centro del nostro tappetino, per adesso togli lo spessore, facciamo una piccola sequenza di massaggio, se non dovesse riuscire a salire nel mezzo ponte, fermati un pochino prima, quindi i glutei e i talloni sono un pochino più vicini ai glutei rispetto a una posizione diciamo per gli addominali, individuiamo bene il neutro del nostro bacino, l'allungo del tratto cervicale, puoi fisicamente spostare la tua testa per sistemare nella posizione corretta e da qui inspira, prepara ed espira retroversione del bacino, attiva i glutei, gli addominali solleva, quindi porta il peso verso le spalle, l'idea è che il peso vada un pochino a massaggiare anche il tratto dorsale cervicale, se non ti dà fastidio, in rimani ed espira una vertebra dopo l'altra, torna giù, ritrova il neutro del tuo bacino e ripartiamo, inspira prepara ed es retroversione del bacino, sali, inspira, fermati bene in quota ed es articola la tua colonna, massaggia per scendere, ne facciamo ancora uno in questa variante, inspira prepara ed es prima passa dalla retroversione, poi articola la tua colonna in salita, prova a vedere se riesce a salire un millimetro in più, andando veramente a cercare quell'appoggio sulla zona del trapezzo superiore, quindi la zona delle spalle, in rimani ed es ritorna giù. Ora se te la senti prova a modificare la posizione delle braccia e in particolare proviamo a lavorare su una posizione in cui i palmi delle mani sono verso l'alto e trova un angolo che non sia esageratamente alto, che non sia esageratamente basso, trova il tuo angolo, deve essere un angolo in cui le braccia sono comode, sono rilassate e non ci sono tensioni sulla zona del collo e delle spalle, inspira prepara ed espira, di nuovo retroversione del bacino, sali, quindi vedi se la posizione delle braccia è corretta e può rimanere in questa posizione, inspira, rimani ed espira, una vertebra dopo l'altra torna giù fino al tuo neutro, in prepara e di nuovo espira, retroversione del bacino, sali, spingi bene sulle piante dei piedi, controlla che le braccia rimangano morbide e senza tensioni, in rimani ed espira, una vertebra dopo l'altra scendi, ritorna giù, ancora un paio di volte così, in prepara, fuori l'aria retroversione, sali, allunga bene, spingi su entrambi i piedi, in tienilo ed espira, mantieni quell'allungo cervicale mentre torni verso il basso e ripetiamo un'ultima volta, in prepara ed espira, retroversione del bacino, sali, allunga bene verso l'alto, in tienilo ed es una vertebra dopo l'altra ritorna giù e ritrova bene il tuo neutro, ora qui puoi mettere lo spessore sotto la testa se preferisci supportare il letto cervicale, partiamo con le braccia verso l'alto, se vuoi i piedi si allontanano leggermente rispetto ai tuoi glutei, quindi realizza bene quella distanza tra le spalle e le orecchie, le braccia sono allungate verso l'alto e cominciamo dall'in prepara ed es apri le tue braccia, fuori l'aria e ritorna e qui concentrati sulla sensazione che hanno, hai a livello delle scapole, quindi a livello posteriore, sul movimento che avviene intorno alla tua colonna, l'attivazione muscolare che apre le tue braccia da dietro, fuori l'aria e ritorna, avanti ancora per 5, intanto il tuo bacino è neutro, la cervicale in allungo, 4 e ritorna, avanti per 3 e ritorna, avanti per gli ultimi due e ritorna, ancora uno, ritorna, fermati qui, andiamo a sforbiciare le braccia, quindi un braccio va verso la testa, l'altro va verso il fianco e qui potresti incontrare qualche piccolo ostacolo, quindi potresti sentire qualche nodo nella muscolatura sempre del trapezio, piuttosto che del muscolo intorno alle scapole, cerca di non forzare, di controllare il movimento e di ridurlo se ci sono dei fastidi a livello delle spalle, respira, ne facciamo ancora 8, ancora 7 senza fretta, ancora 6, respira liberamente 5, ancora 4, avanti 3, ancora gli ultimi due, ancora 1, ritorna con le braccia verso l'alto e andiamo a cercare dei cerchi, quindi partiamo con le braccia verso la testa, andiamo a fare un cerchio che rimane sollevato rispetto al pavimento, quindi non andiamo fino al pavimento completamente, però cerca di lavorare sfiorando ogni volta le tue anche, quindi scendi fino alle gambe, inspira mentre le braccia salgono ed espira mentre scendi, ancora inspira, fuori l'aria scendi, facciamone ancora due in questa direzione, in ed es, scendi, ancora in, inspira, sali ed es, scendi, fermati un secondo su, cambiamo direzione, fuori l'aria e le braccia scendono insieme, in, apri, vai sempre un minimo oltre la tua testa e di nuovo scendi, apri e sali, ancora scendi 3 e ritorna, avanti ancora scendi 4, gli ultimi due anche in questa direzione, avanti scendi 5 e ritorna e ne facciamo ancora 1, scendi 6, ritorna e le tue braccia si fermano verso l'alto, tornano su, ben in linea con le tue spalle. Ora se necessario fai una piccola retroversione, solleva la tua gamba destra, portala in tavolino, l'altra gamba rimane solidamente appoggiata sul tappetino, inspira, prepara ed espira, mentre le braccia vanno oltre la testa, la tua gamba allunga in avanti a 45 gradi, fuori l'aria, inspira, ritorna, cerca quella connessione addominale che ti permette di non aprire le coste quando la tua gamba va in allungo e soprattutto le braccia vanno oltre la tua testa, inspira, ritorna, fuori l'aria, attiva bene gli addominali, premi il tuo piede sinistro sul tappetino, ancora allunga il bacino stabile e facciamo gli ultimi 3, inspira, ritorna, avanti gli ultimi 2, inspira, ritorna, avanti ancora 1, ritorna, ora per 5 movimenti le braccia aprono mentre la gamba stende, fuori l'aria, inspira, ritorna, avanti allunga 2, inspira, torna al centro, fuori l'aria 3 e ritorna, avanti allunga 4, stendi, energia in tutta la tua gamba, avanti ancora 5, ritorna, riappoggia il piede destro e rifacciamo tutto con la gamba sinistra, solleva la tavolino, inspira, prepara ed espira braccia e gamba in direzioni opposte, fuori l'aria, inspira, ritorna verso il centro, fuori l'aria 2, inspira e avanti, allunga 3, quindi la gamba è stesa fino alla punta del piede se possibile, il bacino stabile e ritorna, facciamo gli ultimi 3 e ritorna al centro, ancora gli ultimi 2 e ritorna, ne facciamo ancora 1 e per 5 volte andiamo ad aprire le braccia mentre la gamba allunga, fuori l'aria e ritorna, avanti, apri 2 e ritorna, ancora apri 3, respira e avanti, 4, inspira, ritorna, avanti ancora 5, ritorna, riappoggia la tua gamba e riporta anche le braccia lungo i fianchi, anzi le apriamo le braccia all'esterno, andiamo in una sorta di croce, puoi tenere i palmi verso il basso se preferisci o i palmi verso l'alto e qui porta i tuoi piedi un pochino più larghi, come se volessi toccare gli estremi del tuo tappetino e andiamo a ruotare, ogni volta che le gambe vanno da una parte la testa va esattamente dalla parte opposta, ritorna al centro delicatamente, gira dalla parte opposta e quindi continuiamo a muovere la nostra colonna vertebrale in questa sorta di spirale, in questa sorta di elica e vai di nuovo a ruotare dalla parte opposta e ancora qualche ripetizione così, svita, le braccia rimangono lunghe e attenzione a non sollevare le tue spalle, quindi l'anca si solleva ma la spalla corrispondente rimane appoggiata. Facciamo l'ultima sequenza destra-sinistra, quindi completiamo la nostra sequenza, poi ritorniamo al centro, riappoggiamo bene la testa e riportiamo bene le braccia lungo i nostri fianchi da qui con molta calma, giriamo su un fianco, ci appoggiamo bene sulle mani con calma, veramente con movimenti molto controllati andiamo in posizione eretta, quindi ci fermiamo qui, ci prendiamo un attimo qualche respiro per ritrovare l'allungo, quindi eventualmente i cambi di pressione diventano, ci rendono un pochino più sensibili durante questa, quando la zona cervicale ha un pochino di blocco e da qui partiamo verso la quadrupedia, quindi ci sistemiamo bene a quattro zampe, le mani sotto alle spalle, le ginocchia in linea con le anche, ritroviamo quell'idea di lavorare come se avessimo un tappetino dietro la testa per cui la cervicale va ad allungarsi, lo sguardo in un punto appena oltre le tue mani, la spinta delle mani che attiva tutta la parte anteriore del busto, quindi i bicipiti, i pettorali, gli addominali, quindi l'allungo lombare che è permesso dalla zona dell'attivazione del pavimento pelvico, del trasverso dell'addome e qui andiamo a mobilizzare le nostre scapole, quindi andiamo a retrarre, il petto si avvicina al pavimento e le scapole si avvicinano alla colonna vertebrale, andiamo a protrarre, le scapole si allontanano una dall'altra, puoi inspirare quando va in retrazione, espirare quando va in protrazione o viceversa, cerca di rendere il respiro naturale e libero e allunga, quindi l'obiettivo è quello di avvicinare delicatamente lo sterno al tappetino e poi di allontanarlo, mobilizzando veramente la zona delle scapole, fai attenzione che il bacino non segue questo movimento, quindi il movimento è veramente limitato alla zona superiore del tuo corpo, dall'ombelico in su, quindi anche questo potrebbe essere un massaggio benefico, una mobilizzazione benefica per la zona anche proprio del tratto cervicale, facciamone ancora un paio, respira liberamente, retrazione, protrazione e ancora retrazione, protrazione e poi da qui torna al neutro, quindi ritrova quella spinta leggera indietro della tua nuca e da qui cominciamo a fare un piccolo movimento di porto la mia mano destra verso la spalla, la riappoggio, tengo tutto fermo, alterno le braccia, braccio sinistro e ritorna al centro, il braccio destro sale e scendi, quindi stiamo cominciando ad attivare quella muscolatura posteriore intorno alle scapole e vai su e scendi, anche qui puoi espirare quando il braccio sale e fuori l'aria, ritorna e sali, proviamo a fare una piccola modifica, ora porta il tuo braccio verso l'alto, stendi il braccio dietro di te, ripiega la mano verso la spalla e ritorna giù, stessa cosa dall'altra parte, piega, stendi indietro, ripiega e ritorna giù e di nuovo piega, respira, allunga, ripiega, mano verso la spalla e ritorna e ancora piega, stendi indietro, ritorna, facciamo gli ultimi due qui, di nuovo piega, stendi, piega, torna giù e ancora piega, stendi, piega, ritorna, ora prova a separare appena di più le tue mani tra di loro, quindi in una rispetto all'altra in questo senso, andiamo a fare una piccola serie di push up con i gomiti che aprono, quindi naso che cerca il pavimento e ritorna su spingi, ancora scendi, quindi semplicemente il tuo naso va a cercare il pavimento, il tappetino tra le tue mani, i gomiti si aprono in modo da lavorare bene i pettorali e di nuovo apri e ritorna, gli addominali profondi sempre attivati e ritorna, facciamo gli ultimi tre se te la senti, ancora scendi e risali, ancora gli ultimi due e ritorna e ancora uno, ritorna e qui ci prendiamo un attimo per allungare indietro verso i talloni, qui sentiti libero di allungare le braccia, appoggiare il mento o la fronte sul tappetino oppure di ruotare le testa e magari di appoggiare una guancia o una tempia sulle tue mani, proprio un modo da sciogliere non solo il tratto cervicale ma anche il tratto lombare, trovare una posizione che sia il più possibile comoda. E poi da qui ritorniamo verso la quadrupedia, cominciamo a puntare i piedi, quindi punta bene i piedi, le mani e i piedi riceveranno il tuo peso mentre cercheremo di sollevare di due centimetri le ginocchia, cinque volte questo movimento, spingi via, inspira, addominali profondi attivati e fuori l'aria solleva le tue ginocchia, inspira, riappoggia, avanti ancora, fuori l'aria sali, inspira, ritorna e avanti, scarica bene le spalle, fuori l'aria tre, inspira, ritorna e avanti ancora, fuori l'aria quattro, inspira, scende, ne facciamo ancora uno così, fuori l'aria cinque e ritorna. E ora se te la senti della quadrupedia passiamo verso il cane testa in giù, tenendo però le gambe piegate in modo da allungare bene tutta la colonna, quindi inspira, prepara ed espira, solleva, spingi il busto verso le tue gambe e porta lo sguardo più o meno tra le tue ginocchia e poi ritorna giù con controllo e di nuovo ancora, sali, le gambe rimangono morbide, il codino spinge bene in fuori e scendi frenando la tua discesa, avanti ancora, sali e se te la senti puoi stendere un filo di più le tue gambe, se questo non influenza la zona del bacino, in particolare se la schiena rimane lunga, ancora gli ultimi due, di nuovo spingi via e scendi e avanti ancora, allunga e ritorna e anche qui sciogliamo i piedi, andiamo ad allungare un secondo indietro, puoi sempre ruotare la testa della parte opposta o nella stessa direzione, srotola indietro, ci prendiamo un attimo per ruotare ancora un paio di volte le tue spalle indietro, cerca di fare questa sequenza di esercizi quando non ti trovi nella fase acuta del dolore della cervicale, quindi nel caso ci sia un blocco troppo intenso, un dolore troppo intenso, in quel caso è meglio fermarsi per qualche giorno e poi cercare di fare una sequenza di questo tipo proprio per riprendere il movimento e rinforzare la muscolatura della posturale. Da qui facciamo una piccola sequenza proni, sempre con l'idea di fortificare la muscolatura dorsale, quindi ci traiamo a pancia in giù, mettiamo le mani in linea un pochino più avanti delle spalle, cerchiamo di portare la punta del naso a sfiorare il tappetino, quindi stiamo in una leggera estensione, già qui le gambe sono aperte leggermente e sono attive, cerchiamo di mantenere il tratto lombare bene allungato, andremo a fare una piccola estensione, quindi qui cominciamo a sollevare solamente gli avambracci e li riportiamo giù, quindi tutto rimane fermo, il busto rimane fermo, c'è questo movimento che va a lavorare di nuovo sulla mobilità scapolare, ancora, sali e scendi, ne facciamo ancora cinque e ritorna, ancora quattro e ritorna, avanti per tre e ritorna, ancora gli ultimi due e ritorna, facciamo l'ultimo, scendi, ora qui le mani premono, gli avambracci premono e andiamo ad estendere la colonna dorsale, una piccola estensione, lo sguardo si sposta appena appena in avanti e ritorna giù, quindi qui senti che la pressione sulle braccia ti aiuta nella salita, le spalle lontane dalle tue orecchie, la cervicale viene allungo e ritorna giù, puoi inspirare quando sali, espirare quando scendi, quindi proviamo a inspirare in salita ed espirare quando scendi e ancora inspira, crea energia in tutta la parte posteriore del tuo corpo e ritorna, ancora un paio così, inspira, solleva ed espira, scendi e ne facciamo ancora uno, inspira, solleva ed espira, ritorna e per l'ultima variante qui portiamo le mani a contatto con le nostre gambe, quindi abbiamo le braccia allunghe e di nuovo inspira, solleva il busto, le mani scivolano verso i piedi e ritorna, quindi l'idea è che le braccia in questa posizione ci aiutino un filo di più a salire nella nostra estensione, sempre con controllo e ritorna e di nuovo inspira, solleva, facciamone solamente un altro paio di questi movimenti e di nuovo sali, le mani verso i tuoi piedi, ritorna giù e facciamo l'ultimo ancora, inspira, sali, scendi, da qui metti le mani sotto le tue spalle, chiudi le tue gambe, spingiti indietro e andiamo a ritrovare il nostro, la nostra curva, puoi separare un pochino le ginocchia, ritrovare quella posizione di allungo in avanti o invece di rotazione, andiamo a dondolare un pochino il bacino destra a sinistra, proprio per togliere tensione dalla zona lombare, se nella posizione prona qualche tensione si è accumulata, e da qui richiudi le tue ginocchia e anche qui srotola indietro, una vertebra dopo l'altra, ritorna in allungo, puoi rimanere in questa posizione o invece metterti in una posizione più comoda in cui tu non abbia fessito le ginocchia e anche qui curva in avanti, quindi andiamo a strecciare la zona del dorso, andiamo anche qui a portare una spalla in avanti, l'altra spalla in avanti, diamo proprio quella lungo dorsale, ne facciamo ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1 e poi da qui torniamo al centro, portiamo le braccia verso l'alto, la schiena bene dritta, scarichiamo le spalle e ritorniamo di nuovo e rotiamo un paio di volte le spalle. Torna in una posizione seduta comoda, quindi sedia, spessore o nulla sotto al tuo bacino, diamoci proprio due secondi di massaggio, di automassaggio con le dita delle mani prima di passare la nostra palla, quindi andiamo a massaggiare il lato destro, braccio sinistro, la mano destra sostiene il tuo gomito e cominciamo a massaggiare proprio il trapezzo superiore, quindi questo muscolo che dalla spalla si arrampica fino alla base della tua testa e quindi con i polpastrelli puoi massaggiarlo descrivendo dei movimenti avanti e indietro, dei movimenti circolari, puoi scendere anche nella zona della scapola che spesso è coinvolta dalla rigidità nella zona cervicale e poi salire verso il collo, verso la base del collo prima e poi piano piano salire lungo il collo fino alla zona occipitale, fino alla zona proprio bassa della tua testa e poi ripercorrere questo tratto in salita, in discesa e fermarti dove senti che ci sono dei nodi un pochino più difficili da sciogliere, quindi fermarti a massaggiare e questo è un massaggio che puoi fare in qualsiasi momento tu senta troppe tensioni su questa parte del tuo corpo e quando hai finito il primo lato prenditi un attimo veramente per sentire la differenza, è come se avessi alleggerito un pochino il lato destro, quindi sostenendo il gomito destro andiamo a lavorare sul lato sinistro, quindi anche qui puoi partire dalla spalla, proprio dalla fine del trapezio dove c'è proprio la spalla e poi piano piano massaggiare verso la base del collo, quindi verso la colonna vertebrale e anche qui se già incontri dei punti un pochino più anodati fermarti su quelli e poi piano piano magari con i movimenti circolari salire lungo il collo fino alla zona dell'occipite, fermarti dove senti che il massaggio può stimolare in modo benefico anche se magari crea un minimo di dolore e poi puoi scendere di nuovo e fermarti, scendere verso la scapola, quindi puoi aiutarti con la mano di supporto per andare a sciogliere un pochino, non necessariamente solamente su questa parte del collo e poi fermati a sentire un pochino il beneficio di questo massaggio. E ora andiamo a recuperare la nostra palla, quindi comincia a sdraiarti e anche qui trova una posizione comoda e puoi stendere le tue gambe, puoi tenerle piegate, fai attenzione che la zona lombare sia sempre protetta e metti questa palla sotto la testa, trova una posizione in cui tu senta la sospensione del peso, è ovvio che c'è un'instabilità quindi se la palla in qualche modo ti dà fastidio ti crea una sensazione di mal di mare, di giramento di testa, toglila e metti un cuscino stabile e puoi tenere le braccia lungo i fianchi, sulla pancia e cominciamo a muovere la nostra testa dicendo no andando a destra e a sinistra. Quindi sospendiamo veramente il peso della nostra testa sulla palla e lasciamo che ci sia questo movimento molto delicato sospeso proprio sulla palla e puoi amplificarlo o ridurlo in base a quella che è la tua sensazione di beneficio. Proviamo a fermarci un secondo al centro e a dire un sì quindi ad andare leggermente verso l'alto e leggermente verso il basso e questo movimento può essere veramente molto piccolo per non esagerare proprio sulla estensione e poi ti fermi al centro e poi andiamo a scrivere un cerchio con il naso, come se lo volessimo scrivere con il naso sul soffitto. Cerca di usare il meno possibile i flessori del collo quindi di spingere piuttosto la nuca sulla palla per far scendere il mento piuttosto che attivare i flessori. Dopo aver fatto 5-6 giri da questa parte proviamo a cambiare direzione e andiamo anche dall'altra e anche qui cerca di spingere delicatamente sulla palla e quando hai finito la tua serie di cerchi torna centrale e rimani in questa posizione di quiete, puoi decidere di allungare le gambe se non l'hai ancora fatto, una sorta di shavasana con la palla sotto la testa, puoi aprire le tue braccia, puoi portare i palmi delle mani verso l'alto e respirare per qualche secondo in questa posizione, puoi chiudere gli occhi, veramente assorbire quello che è il beneficio della presenza della palla sotto la testa. Cerca di togliere tensioni da ogni parte del corpo facendo anche dei piccoli aggiustamenti se è il caso. E poi quando devi riprendere il movimento come sempre muovi dall'estremità le mani, le caviglie, puoi cominciare a flettere un ginocchio, a piegare l'altro, magari tirare un secondo le gambe verso il petto, puoi togliere o tenere la palla come preferisci in questo momento, dondolare il bacino da una parte e dall'altra, recuperare un pochino quell'allungo anche della zona lombare e poi riporta i tuoi piedi in appoggio, delicatamente togli la palla da sotto la tua testa, appoggia un secondo la testa, mantieni bene quell'allungo del tratto cervicale, senti la differenza, magari il beneficio che la palla ha ancora, riverbera un pochino, il beneficio della palla una volta che l'hai tolta e da qui ci giriamo con calma su un fianco, sempre supportandoci con le mani e ritorniamo nella nostra posizione eretta, quindi anche qui ci prendiamo un attimo di tempo per allungarci verso l'alto e chiudiamo con la nostra flessione laterale, quindi inspira il braccio destro, vai in allungo ed espira, guarda verso il tuo fianco sinistro mentre scendi in flessione laterale, tieni l'ischio destro bene appoggiato sul tappetino, torna verso l'alto e scendi, il braccio sinistro sale, guarda questa volta verso il tuo fianco destro mentre scendi, torna su, puoi tenere la testa sempre rivolta in avanti se preferisci, quindi questa è la variante che puoi usare se la tua testa, se trovi qualche fastidio particolare invece girando la testa verso il fianco, facciamo l'ultimo dall'altra parte, quindi puoi guardare verso il fianco o rimanere con lo sguardo qui davanti, torna verso l'alto e facciamo un bel inspiro, portiamo le braccia verso l'alto, ci allunghiamo, mani che si toccano sopra la testa, portiamo le mani qui davanti al petto, benissimo, ottimo lavoro, grazie mille per essere stato come durante questa sequenza, spero davvero che ti sia utile per poter sciogliere le tensioni da questa parte che spesso per motivi diversi, per le nostre posture, per il lavoro si riempie di tensioni. Grazie di nuovo per essere stato con me, se il video ti piace lascia un like, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e per supportare il canale iscriviti al canale stesso, attiva la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Io ti aspetto alla prossima e ti mando un abbraccio, a presto!